Siamo senza la musica, è un live, ve la presentiamo, ciao fantastica, come ti chiami? Alice Wow Alice, e lei al contrario me lo dice, come si chiama? Giulia Non ho capito Giulia Così è più difficile di rappresentarsi, vai, come ti chiami? Ah un'altra Alice, e qua siamo nel Ponte della Meraviglia, e lei come si chiama? Giorgia Wow Giorgia, e lui è Oscar, lui è lo sventolatore E qua siamo nel continente nero, lei si chiama Asia E io sono il loco, Andrea, per Pardis, per voi Aldo Lami, campione italiano, ci siamo Tanta roba, non scherziamo? Quante volte hai provato a battervi? Dillo, dillo Quante volte hai provato? Ce l'hai mai fatta? Sì, sempre Ma non è vero, è una bugia! Non è vero, però è un amico, vero? Ciao